E allora amici di Youtube, di TikTok, in base a dove starete guardando questo video, mi raccomando, mi raccomando, prima di partire con questi pronostici 25esima giornata di Serie B, vi ricordo che qui da Burchiano, lo youtuber, il social Maremmano, il calcio e il fantacalcio le trovate nel quotidiano, quindi, quindi, quindi iscrivetevi subito al canale, iscrivetevi subito al canale Maremma Cane, iscriviti a sto canale, iscriviti, so che guardate i video, guardate, non vi iscrivete a questo canale Maremma Bischera, non lo trovate uno youtuber dove vi porto al fantacalcio, quasi nel quotidiano, il calcio è uno strano, insieme al campionato di Serie B che sono strani qui dal Maremmano, quindi iscrivetevi a sto canale, iscrivetevi, Maremma Bischera ragazzi, oggi siamo in forma, siamo in forma per i resoconti di tutto quello che faccio su TikTok, su Youtube e quant'altro, Instagram Burchiano92, link in bio, link in bio, su TikTok e link in descrizione su Youtube invece, ok? Allora, allora, ora si entra nella fase decisiva della stagione, ogni punto vale quasi come due ora, ogni punto secondo me vale doppio da ora in poi, la classifica è corta, davanti è corta dietro e il Parma c'ha sei punti di vantaggio, sulla seconda tiene questi punti in maniera importante, tante partite che sono difficili da decifrare, partendo da Ascoli Cremonese, io Ascoli Cremonese ragazzi vedo la Cremonese sicuramente in vantaggio, vedo la Cremonese che sicuramente Ascoli possa, fa bene dico X2, perché l'Ascoli è una squadra che non mi ha mai convinto da inizio anno, non mi ha mai convinto da inizio anno, quindi dico X2 potrebbe finire tipo anche 1-2 sta partita qui, io tipo 1-1, 1-2 così la vedo io poi, oh regà, mica c'ho la sfera di cristallo come dico sempre, Spezia Cittadella, lo Spezia lo Spezia è una squadra pazza, però si è un po' rialzata ultimamente, vi ho detto anche che in casa ha vinto una partita, Cittadella è in crisi nera, perché comunque si è in crisi nera Cittadella, perché viene da 4 sconfitte consecutive, lo Spezia invece viene da 5 punti nelle ultime 3, D'Angelo l'ha un po' rialzata sta squadra, ha vinto 4 partite solo lo Spezia, potrebbe finire anche un pareggio sta partita qui secondo me, dico X tra Spezia e Cittadella, potrebbe finire X, Vari Feralpi, la Feralpi è in forma però attenzione, è stato bugiardo il risultato contro il Palermo, io dico gol, Vari Feralpi salò dico gol e potrebbe essere una partita molto molto equilibrata secondo me, Spezia Cittadella potrebbe finire 1 a 1 e Vari Feralpi 2 a 2, Reggiana Ternana per me potrebbe finire anche questa qui 1 a 1, 2 a 1, quindi dico 1 X, Reggiana Ternana perché la Reggiana gioca veramente bene, però è la classica partita da tripla questa, è difficile andare a pronosticar Reggiana Ternana secondo me, la Reggiana in un buon momento, la Ternana vi è pareggiato l'ultima, è stato importante il punto che ha ottenuto la Ternana in casa contro lo Spezia anche se si è fatta rimontare l'ultimo, però potrebbe essere anche questa è una partita da pareggio, è da tripla, è difficile onestamente andarla a decifrare questa partita qui, forse over 1 e mezzo è il risultato più giusto da giocare, però la vedo da tripla, Parma-Pisa e il Pisa lo vedo in crescita veramente bene, il Parma è una squadra fortissima però potrebbe finire anche in pareggio Parma-Pisa e attenzione dico 1 X ma il Pisa secondo me a Parma potrebbe far bene, Lecco-Cosenza vedo un po' meglio gli ospiti, però la squadra di casa ha una grande voglia di rivalza, Lecco deve far si valere se si vuole salvare, potrebbe finire anche in pareggio questa partita qui tra Lecco e Cosenza, dico la verità, magari pochi gol, un pareggio brutto, una roba del genere, Sampdoria-Brescia anche qui vedo una gara brutta, però vedo un pelino meglio gli ospiti, dico tipo X2 più under 3 e mezzo, una cosa così, vedo un pareggio meglio gli ospiti, Catanzaro-Sud-Tirol, per me il Catanzaro in casa si fa sempre bene, tanta voglia di rivalza, non credo che perda contro il Sud-Tirol in casa, il Sud-Tirol gli serve punti, è vero, però vedo 1 X, Catanzaro-Sud-Tirol, Palermo-Como vedo una partita molto molto equilibrata, potrebbe finire anche in pareggio onestamente, Palermo-Como, potrebbe finire anche in pareggio tipo 1 a 1, ci sta un bel X secondo me, Venezia-Modena vedo il Venezia invece vincente, 1 secco, tra Venezia e Modena e Venezia che ritorna comunque in casa, vuoi far bene, avvince in casa, sì, la vedo così sta giornata, è difficile, non so se riuscirò a estrapolare qualche proposta da mettere su Telegram, non lo so, perché è difficile sto turno davvero, comunque voi scrivetemi i vostri pronostici nei commenti perché le prenderò in considerazione come sempre e poi vediamo, però è difficile, difficile sta giornata secondo me raga, difficile, difficile difficile la pronostica, detto questo, tantissimi like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere i vostri pronostici perché sono molto molto curioso e condividete questo video con tutti gli appassionati di calcio che conoscete perché qui da Burkiano, lo youtuber, il social mare in mano, calcio e fantacalcio, le trovate nel quotidiano, ma al campionato di serie B qui, è lo strano, ricordatevelo!